Ciao. Possibile che un brutto paio di calze color carne diventi una moda di stagione solo perché a portarle la futura regina d'Inghilterra? È un fatto che da quando Kate Middleton le indossa l'incremento delle vendite nei grandi magazzini inglesi è stato straordinario, più 65%. E dopo Kate e la sorella Pippa, diventata un'altra icona di stile, grazie al suo fondoschiena, immortalato da tutte le tv del mondo, anche Beyoncé e Carla Bruni si sono adeguate. Insomma è evidente che i personaggi hanno molta influenza sulle scelte dei comuni mortali, più di quanta ne abbiano gli stilisti che per anni hanno bandito dalle passerelle le calze velate, sostituendole con le coprenti. Ma si tratta davvero solo di tendenza? A essere maliziosi pare che la duchessa di Cambridge sia molto legata al mondo dei grandi magazzini, di cui potrebbe essere una straordinaria testimonia all'occulta, quantomeno per la sua influenza sulle giovani con budget limitato, un po' come ha fatto la first lady Michelle Obama che ha puntato sulla moda democratica per conquistare la fiducia della middle class americana. In tempo di crisi anche la Casa Reale ha capito che indurre al risparmio può essere un mezzo per guadagnare, almeno in simpatia.